questo è il posto giusto benvenuta nella nostra nuova casa un ambiente senza predatori te lo devo concedere Timon questo posto ha tutto ciò che si può desiderare beh ce l'ha ora che siamo tutti qui insieme si te l'ha detto Flick il posto adatto è l'isola delle bambiche come questa la gru distende le sue ali e ruota sulle sue delicate zampe ebbè una tana scava una tana non mi serve più nessuna tana non dovrò scavare una tana qui la iene ritornerà c'è Timon che ci proteggerà sui casa di qualità è un romantico paladino con il caldo persù si ha salvato la situazione si lo so sono un cervellone e ha abbinato tutti i miei scatti nella strada della vita e cammeremo al mondo si un eroe come l'unico non c'è yahoo beh ecco qua siamo al diotto fine al quadro conclusivo al gran finale come è già finito beh bomba è tipico del finale che arriva sempre alla fine oh possiamo guardarlo da capo bomba l'abbiamo appena visto magari domani d'accordo ehi che state facendo qua ah eh ma non mi avevate detto che guardavate il film voglio vederlo anch'io mamma abbiamo appena finito di vederlo lo spettacolo è finito beh devi solo riappoggere il nastro mamma ciao max vieni guardiamo il film ci ho messo una reazione doppia di burro ehi state guardando il film una storia che merita va raccontata due volte sedute vi abbiamo ospiti ma che cosa oh permesso 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 levati dai piedi cos'è questo affollamento ehi state giù lì davanti attenti ok amico hai vinto tu sicuro che non ti dispiace la vita è senza finire sai Timon continuo ad avere qualche problemino tra la folla grazie